Rosy Chin! Oh, oh, attenzione! Puoi riprenderlo, puoi riprenderlo! Aiuta, mi fa male il braccio! Ciao ragazzi, siamo alla terza tappa del Web of Backstage Secret Summer Tour con Arianna, sei pronta a fare una challenge? Dai! Siamo qui per fare l'Ula Race Challenge, ma ci sarà una particolarità. Durante la challenge dovrò dirti dei nomi e tu dovrai scegliere quello corretto senza mai smetter di far girare l'Ula Hop. Dai, facciamolo! Proviamoci! Avrai un minuto. Allora, sei pronta? Vai! 3, 2, 1, via! Giulia Delellis o Chiara Ferrandi? Giulia Delellis Corretto! Grande Fratello o Isola dei Famosi? Grande Fratello! Correttissimo! Rosy Chin! Oh, oh, attenzione! Puoi riprenderlo, puoi riprenderlo! Nulla è perso! Rosy Chin o Mirko Brunetti? Mirko Brunetti! Un'altra volta corretto! Tentation Island o Pechino Express? Pechino Express! Sbagliata! La prima sbagliata! Lino o Sandro? Lino! Adesso devi andare avanti così finché non finisce il minuto! Carica, carica, carica! Aiuta, mi fa male il braccio! La challenge è finita, puoi fermarti, per fortuna! Sei stata bravissima! Grazie di essere stata con noi! Grazie a voi! Noi ci vediamo con le prossime challenge del Web of Backstage Secret Summer Tour! Ciao!